Uomini e donne puntata di oggi 5 marzo 2018, Sara bacia Lorenzo, Luigi va via. In questo video anteprima vedrete ciò che accadrà nella prossima puntata di Uomini e donne classico. Lorenzo confessa a Sara di aver paura di innamorarsi di lei. Tra i due vi è un bacio. Luigi offeso lascia lo studio. Uomini e donne, Sara non si fida di Nicolò Fabri. Maria De Filippi fa entrare i quattro tronisti e comunica che si inizia dal percorso di Sara. Sulle parte un video dove la affifella redarguisce Nicolò Fabri. La tronista Riccia è fermamente convinta che lui sia completamente assente nei suoi confronti. Il pretendente però cerca in qualche maniera di rassicurarla. Dicendole che nella conoscenza tra loro sta procedendo con i piedi di piombo, onde evitare sgradite ed amare sorprese. Il corteggiatore nello stesso momento riferisce che ha già fatto alcuni passi importanti nei suoi confronti, come quello di averle regalato il suo peluche. La redazione accoglie lo sfogo di Nicolò. Lui si dice convinto di non piacere a Sara. Terminato il filmato, Gianni Sperti usa parole molto forti contro il corteggiatore. Gli chiede senza mezze misure se in tre esterne si sente già innamorato della tronista Riccia, proprio come è accaduto con Sabrina Ghio. Il corteggiatore nega tali insinuazioni e confida di non voler commettere gli stessi errori accaduti in passato. La affifella cerca di spiegare il comportamento del suo pretendente, affermando che probabilmente lei non piace a lui. Fabri sentitosi messo alle strette, asserisce di trovare una Sara diversa da quella conosciuta nel villaggio di Temptation Island. Lorenzo teme di innamorarsi di Sara. Si passa a vedere l'esterna tra la affifella e Luigi. Questile prepara una serie di bigliettini nei quali mette in evidenza il carattere, il modo di porsi ed il relazionarsi di lei. Sara è felice e dopo averlo trovato, lo informa che lui ha capito tutto di lei. A diretta domanda del pretendente, la affifella riferisce di non essere ancora pronta per una scelta. Stefano invece si rega a prendere Sara all'università. Su un divano, i due appaiono molto distesi ed affiatati. Sperti indaga sulla loro conoscenza. Si passa a vedere l'esterna romantica tra la tronista Riccia e Lorenzo. I due si vestono eleganti e cenano davanti ad un cammino. La affifella si siede sulle sue gambe e lui le confessa di avere paura di innamorarsi di lei. Tra i due scatta un bacio passionale. Luigi a tale visione si alza adirato e se ne va. Sara gli va dietro e cerca di farlo ragionare.